Vi ritornate ragazzi sul canale di Galloz, nuovo episodio del nostro partito in Total War Faro con Ramses, Ramses che adesso ha la corona di pretendente al faraone ma non penso ce la faremo questo giro, ci riproveremo nel caso comunque mancano ancora un sacco di turni, 21 ma nel frattempo c'è una bruttissima crisi, comunque la prima che dobbiamo affrontare vedete che anche la mappa ha un colore molto più brutto e stanco e peggiorerà ancora questa cosa, quindi vediamo un po' comunque volevo organizzarmi per andare contro a Peramon e poi ridichiarare guerra a questo in maniera tale da arrivare anche noi a confinare con Inui e quindi magari arrivare a conquistare questa parte dopodiché magari con un secondo esercito finiamo il mio piano di conquista del Sinei per dedicarci completamente di là ma per ora dobbiamo andare da questa parte allora tu inizi a venire qui perché come primo atto della questione voglio assolutamente andare qua da Scalonia e potenziare questo ora costa 105 adesso che sei arrivato costa 95 perfetto quindi questo l'abbiamo fatto perché questa cosa è importante? prima abbiamo avuto lo sconto ma poi centro di culto in cui l'edificio del governatore è di livello 4 quindi teoricamente potenziando questo dovremmo essere a posto questo credo che conti come edificio di culto spero se no abbiamo qui dove ovviamente c'è questo che credo conti come edificio di culto e lui fra due turni sale e poi lo faremo la stessa cosa qua dove fra tre turni lui è pronto eccetera 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 insomma si siamo capiti questo perché? perché lui ha questo strumento che gli abbassa i costi di costruzione quindi non è male non è male e c'è scritto tutti gli avamposti ma ho visto ricevamo lo sconto forse semplicemente allora se è solo per gli avamposti mi viene da dire che forse c'è un altro sconto che non ho considerato ma lui ha uno sconto quindi questo ci sta allora tu andrei qua tra due turni quindi questo turno secondo me possiamo anche non fare molto fra due turni quando siamo qua voglio reclutare un altro esercito qui nella capitale e lo useremo per attaccare da questa parte mentre tu vai su per Amon di qua oltretutto qua c'è un fortino quindi probabilmente attaccheremo prima il forte e poi la città che non può avere tutta sta guarnigione perché è una città minore quindi da quel punto di vista siamo a posto siamo nel primo turno di quest'anno quindi esattamente il turno 25 quindi siamo nel quinto anno e arriveremo al turno 30 entro quest'anno qui c'è poco da fare vedete che abbiamo ancora 21 turni per credo risultare essere il pretendente con più potere poi non so che cosa come funziona questa meccanica io di fatto punto da avere questa più alta possibile ci sono gli edifici e per ora l'unico che ci dà qualcosa dovrebbe essere questo qua di Escalonia che ci dà un più due e non so cos'altro ci dia un altro più uno credo questo esatto e questo qua ci darà un altro più uno esattamente quindi dal punto di vista edifici che io sappia o insomma che possiamo costruire in questa fase perché alcuni magari sono in fase avanzata c'è solo quello cioè per esempio sicuramente il monumento alla grandezza ma come dire costa 4.000 cioè insomma 4.000 d'oro è un discorso da fare probabilmente alla fine della partita che ora non ci interessa particolarmente le altre azioni che possiamo fare per aumentare la nostra facoltà è sicuramente andare a minare quella degli altri ma soprattutto potenziare la nostra allora siamo messi in una situazione buona perché ho potenziato tantissimo il visir quindi posso fare un sacco di azioni e userò sostanzialmente complotto al massimo su di lui allora qua cosa c'ho costruisci i tempi questa roba non mi interessa pietà neppure tu mi puoi dare sottrai e paga pagare mentre questo mi dà la possibilità di avere i guerrieri d'elite e soprattutto allora reclutamento per una carica di attiva la cosa ah funziona dal cioè si attiva dopo la fine di questi sei turni e per i prossimi sei turni avremo questo sconto ma quindi vuol dire da turno sei cioè sette fino al dodicesimo prossimo quindi non è da fare adesso credo proprio che cercherò di sfavorire te e te sostanzialmente complotto minaccia verrà rimosso da questa posizione scredita in caso è successo gli rubo sedi legittimità e forse ancora meglio ricatta 73 scredita iniziamo a screditare lucida un 45% di possibilità andiamo da questo e diciamo confessami abbiamo tre azioni no certo che non gran vizir tu sei il migliore che io conosca poi facciamo un blotta un blotta un blotta 90% non ho più azioni basta quindi questo qua è il 90% ed è a livello 4 lo posso potenziare fino a livello 5 quindi va bene visibilità del complotto 1 però perché l'ho fatto un bel po' di volte poi in tutto il resto del turno cercheremo di discreditare anche lui in questo modo dovrei potenziarmi un po' di più cioè spero insomma le azioni dovrebbero essere servite scambi ok posso parlare grazie non è un brutto scambio non penso però di volerlo fare onestamente quindi posto così non lo rinnoviamo più ci servi tu allora io ho bisogno adesso andiamo in questo turno prossimo turno facciamo che reclutiamo il il coso il generale e iniziamo a reclutare perché poi andremo pesanti nel prossimo turno quindi qua torniamo a fare quello del generale e questo per il prossimo turno iniziamo a reclutare e direi di fare fine turno altrimenti non siamo in guerra con nessuno devo dire in realtà con l'imperatore allora tu vuoi darmi della legna in cambio di 150 di pietra non è che la legna mi faccia così schifo contro offerta però è tanto facciamo solo 100 molto meglio 90 molto meglio ok 90 conferma per 7 turni non è male e ci dà così d'unblé 13 va bene grazie grazie molto bene dai adesso prepariamoci a reclutare gente 20 ok civiltà in pericolo cos'è in pericolo c'è la peste è accaduta la peste a tiro anche a scalonia c'è la peste porca miseria via fugotto eh chosen of ra crepi e lo sai via 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 c'è la peste porca miseria allora accordo scaduto comunque cioè si scadono troppo presto gli accordi però mi sembra di ricordare che qua c'era una brutta guerra con loro non vorrei che se gli conquistano la capitale è brutta eh credo spero abbia altri porti perché non so come facciamo commerciare se no e saponetta qua è terrificante spero che è una saponetta ma beh avete capito abbiamo fatto questo io sono curioso di vedere se il prossimo turno che ci finisce questa qua saliamo spero tanto ma non ho modo di saperlo allora possiamo potenziare questo e fare il porto il porto ci dà il cibo fai questo che costi meno perché c'è lui finito nel prossimo turno andiamo di qua 128 ci arriviamo perfetto ora non guadagniamo niente di pietra però eh per aver finito questi scambi qui quindi non abbiamo i due scambi con questo e quello con marron 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 cavolo questi sono davvero belli 305 quindi questo l'abbiamo rinnovato basta così pietra e io importo questo no sto bene come sto quindi quelli non li tocchiamo più qui abbiamo altre due azioni adesso facciamo un complotto su di lui così lo portiamo al 100% a posto adesso ci dobbiamo preparare per fare la stessa cosa su di lui quindi facciamo un altro complotto scredita che è perfetto e noi riluppiamo altre 6 però ci serve ovviamente avere il visire super felice quindi per ora facciamo che gli spettacoliamo ancora e cerchiamo di fare più cose possibili con il visire insomma tutto quello che il visire vuole noi glielo faremo avanti adesso abbiamo già lo sconto sul reclutamento qua per l'editto ah poi c'è una cosa importante l'ordine pubblico qua va a meno 97 c'è la rivolta facciamo così facciamolo salire ecco vedete che il bronzo praticamente è andato col paese però questa sta salendo ancora la forza di lavoro è terrificamente bassa tra due turni c'è questo che ci dà un più 2 credo che dovremmo andare a togliere questa ma dovremmo fare una bella guerra contro questi sono 16 in guarnigione vuol dire 7 qua più evidentemente 9 qui dentro più un esercito da 20 qui sta calmo grado di forza 43 grado di forza 43 dai secondo generale allora abbiamo due tacchini due leoni o tre leoni da questo punto di vista non cambia assolutamente niente cioè non c'è nessun aspetto o cose particolari vai su birulotto non mi ricordo che cacchi fanno questi allora questo è il mantenimento che secondo me non è una cosa brutta andiamo di mantenimento perché con tutti gli eserciti saremo messi abbastanza maluccio quindi recluta pigliamo leone 3 quindi adimep e ci pigliamo intanto questo perfetto ok poi tu no no allora ti posso far diventare un arciere ah sono due consiglieri no vabbè allora si ritiene entrambi qua e abbiamo pure questo no si tiene tutto quanto ora tu semplicemente hai l'arco e non rompere le valle nome allora come avete già suggerito quindi vi invito a suggerirmi altri nomi però di chiamarne uno bud e il prossimo si dovrebbe chiamare joao spencer spencer bud spencer perfetto quindi lui è a posto e non deve fare niente e lui invece è messo così bene per quanto riguarda lui iniziamo subito a reclutare e gli possiamo dare un po' di truppe base secondo me non possiamo reclutare solo due quindi siamo con degli arcieri così sono tutti archi nel prossimo turno spero di poterne reclutare qualcuno in più se faccio recluta credo che qua vada al turno successivo compresi questi mentre questi qua sono istantanei quindi a Ramses gli diamo questi che a lui costano anche leggermente meno mentre quell'altro vediamo un po' il da farsi hai comunque anche te questi quindi potenzialmente possiamo fare questa cosa qua per il turno prima della guerra insomma il turno prima della guerra voglio controllare una cosa attualmente costa i 630 nel prossimo turno ci dovrebbe essere lo sconto voglio vedere se è vero cioè che mi abbassa anche questi qua che hanno diciamo il reclutamento istantaneo basta allora azioni sospeso scambi scaduti li abbiamo già visti tutti quindi via costruzione disponibile a scalonia felicità sì non è così importante sì nella settentrionale invece questo aumenta la felicità dove sei tu secondo me è una zona abbastanza protetta dai potenziamo la felicità beh invece magari questo qua lo cambiamo se la felicità arriva al massimo perché adesso andiamo a potenziarla di due se troviamo un modo una tech magari qua togliamo questo e vediamo se farà altre strutture cioè quella dell'influenza per esempio può essere magari più utile o quella della forza lavoro o non lo so cioè questa per poter prendere dei carri perché in realtà ora non l'abbiamo o in realtà potremmo anche mettere una guarnigione che comunque vedete che dà uno di felicità o questo che dà influenza insomma ci sono un po' di strutture questa penso non si possa fare almeno che la capitale di provincia non produca bronzo quindi fine turno e abbiamo fatto tutto vasetto vediamo se conquista se n'è andato no con uno dei due eserciti si è andato questo si imbarca grande vai fuori dalle balle vai a farti la tua guerra di là spero che tu vinco perda non mi interessa ma non devi più garantire qui bene questo continua a scendere ragazzi quindi 390 purtroppo visto che è sceso non abbiamo assolutamente garanzia che questo faccia alcunché se ne sono 13 12 non si capisce comunque fatemi vedere che cosa fa sono passati altre cose qua seti ancora non capisco perché durano praticamente due turni però questa cosa sarebbe da capire l'influenza scende un pochino cosa fa la pestilenza slot reclutamento meno 4 vabbè crescita della forza lavoro meno 25 quindi qua c'è meno 25 e reclutamento no ok niente reclutamento vediamo qua questa cosa tu costi sempre 630 quindi non è vero che costi di meno proprio eserciti di questa fazione unità unità navale ma non è vero non avevo letto sta cosa ragazzi ah native native non navale queste sono native quindi queste costano di meno unità native di questa fazione queste sono native di qui proprio eserci di questa nazione unità native va bene allora io andrei qua questo cos'è stazione commerciale stazione commerciale santuario di ra manca 20 porca miseria tu stai facendo un'azione contro di lui e lui contro di te cioè perché l'unica possibilità è quella considerando che io so che sono contro di lui e siamo al 100% allora io ho bisogno sicuramente di avere uno spettegola così possiamo al prossimo turno no non posso più fare questo quindi facciamo un turno di complotto due turni un'azione complotto poi prossimo turno due azioni portiamo questo qua a 20 facendo due aiuto aiuto qui ok poi ne abbiamo ancora 20 possiamo fare un aiuto complotto si sostanzialmente ci conviene partire adesso ah non posso fare più di uno scredita basta ricatta 67% cosa mi dà il tesoriere con tutta sta roba ma si che il costo di un'unica categoria di edifici diminuisca di un 25 al prossimo Shamu ma non è che mi interesse così tanto piuttosto è meglio fare qualcosa qua ricatta contro questo 76 difficile che non passi cioè posso potenziarlo un po' di volte ricattiamo lui ok così il prossimo turno abbiamo lo sconto bene qua come va la faccenda vasetto continua a scendere di brutto adesso noi lo devasteremo perché li andremo contro e noi saliamo a 31 però vedete che è molto lontano sarebbe bello capire loro come fanno ad averne così tanto così andiamo contro le loro strutture questa è già costruita vero? no fra un turno questo è fatto quindi fra un turno possiamo pregare e migliorare la cosa con te mettendo pubblico più 4 vacci dentro più 8 allora stai dentro qua e passa il tempo a cazzeggiare tu vai a farti questo qua il prossimo turno ci posizioniamo qua quando siamo pronti magari le truppe facciamo reclutare anche a questo ok azione sospeso costruzioni disponibili sine del nord e sine del sud ok sicuramente il cibo dobbiamo tenere questa bassa è importante qua ah perché questa qua ovviamente l'abbiamo potenziata potremmo potenziare la produzione di legno fare questo qui che potenzia tutto del 5% questo qua legname più 20 in questa provincia che non è male cioè alla fine è vero qua produciamo anche del cibo qua arriveremo più 15 aumentare la felicità ma costa anche dell'oro quindi o la cantina o quello non sono brutte scelte mi piacerebbe tanto avere anche un'officina per la produzione di carri cosa che ci servirebbe in realtà la felicità qua comunque non serve siamo sempre abbastanza sotto col legno qua però di produzione di legno ce ne sono due in questa provincia no è troppo importante cioè la somma di queste due rende la provincia assolutamente fondamentale per il legno quindi andiamo almeno fin lì li vedremo prima o poi carri basta scambi scaduti seti a 87 perché ho 87 va bene va bene così proponi ok l'altro credo credo sia questa no restiamo comunque così va bene non voglio fare altro gli eventi li abbiamo già visti tutti va bene ci dovrebbe arrivare anche un'ambizione credo vorrei avere dai andate dillo lontano anche perché quando scade il nostro accordo è partito andato in marcia non lo troveremo mai più complotto di corte svelato i tuoi piani sono stati così ben non sono stati così ben costruiti come i tuoi alleati avrebbero voluto farti credere ma ciò non significa che non siano lodevoli se vorrai abbandonarli per poter collaborare su obiettivi più ambiziosi vabbè 100 d'oro ah ma aspetta questo qua è quello che abbiamo appena fatto contro il contro il coso contro quello dell'esercito quello in basso in mezzo insomma va bene annullo il complotto che in realtà è esattamente quello che cioè annullare il complotto mi da 60 qua esattamente quello che volevo perfetto questo qua è perfetto questo qua è successo ma non serve più qualcun'altro sto facendo un complotto contro di te e mi spiace è lui ok allora a questo punto io farei così possiamo reclutare guerrieri d'elite prima il prossimo sham or o se no fai sì che però nei prossimi turni avremo lo sconto ora però ho bisogno di reclutare io farei questa cosa basta l'altra azione io come sapete mi trovo davvero da dio con lui quindi facciamo uno spettiguless spettiguless che sappiamo che tu stai facendo contro di lui e non scredita ok quindi abbiamo spettigulando con lui lo abbiamo aiutato bene comunque noi siamo immuni e nella corte stanno hanno tutto come nel meglio dei modi tu se salissi un po' di più potrei reclutare ma vedo che siamo molto lontani da questo obiettivo quindi purtroppo ancora reclutamenti scrausi avviciniamoci qua però poi con Ra dovremmo essere arrivati al massimo esatto ok quindi non serve per dover più salire oh uh mmm cazzarola no non lo sapevo ragazzi costano tutti quanti oro per turno però un carro così pesante sarebbe bello averne almeno uno non in questo esercito ma almeno uno siamo senza bronzo qua sarà scaduto qualche altro coso che mi dava il bronzo ma scusa un attimo comunque cioè noi abbiamo fatto pace quanti turni fa perché tu devi pagarmi per sette turni vabbè iniziamo da qua Ramses che ha il cappellino figo va qua e fa un bellissimo no sbagliato un mantenimento più basso non mi interessa vai qui prega più 24 in morale poi parte in marcia forzata in realtà non serve ti metti qua vediamo se per Amon è in guerra con qualcuno no per ora qua siamo a 27 salita di uno per gli edifici saranno le costruzioni forse riusciamo a superare questo ma non credo arrivare a primi cioè siamo sotto di 21 punti è molto non è poco allora reclutiamo con te e con te invece un altro paio di maniche a quant'è posso reclutare questi non te perché serve il legno porca miseria danno arcieri reali c'hanno pure il danno melee quindi sono devastanti anche i melee c'è 57 è un botto questi sono fortissimi grado 6 minchia guardie reali con copesh come si fa ad avere la guardia del corpo di Ra che è una guardia reale con copesh che voglio anch'io quello forse serve un copesh più potente di quello che abbiamo trovato questo è fortissimo mantenimento 30 d'oro però no non ce lo possiamo proprio promettere niente è andata male allora facciamo così pigliamo questi due diciamo ha causato il potere ma non sapevo cosa faceva non sto a ricaricare per queste cose lì va bene potremmo anche vabbè un po' di trash lo teniamo prendere questo potremmo anche attaccare questo turno sapete avrei dovuto prendere un fanta in più quanti arcieri abbiamo in questo modo millimila wow poi dobbiamo sistemare tutto comunque questo ci metto un turno e non voglio aspettare non voglio proprio aspettare non penso che vorrò aspettare ragazzi ciao dichiariamo guerra dichiariamo guerra qua mettiamo quello delle risorse è sempre lo stesso turno non l'ho cambiato vero in the name of duty take them down vai ugi allora vorrei fare questa battaglia seconda un attimo perché almeno abbiamo due unità di fanteria e credo che dovremmo proprio giocarcela intensamente qua ok tu aiuti lui forse davvero un posto quindi se distruggessimo questo probabilmente non ci sarebbe nessuno tu cosa c'hai qua questo che è un forte egizio questo che è un posto di guardia che gli dà tre lance in più io quasi quasi verrei verso di te va bene azioni in sospeso costruzione disponibile sine settentrionale ma è perché ci servono tutte le risorse bronzo e cibo siamo sotto ma vedrete che almeno spero lo recupereremo allora lo scorso episodio è venuto lunghissimo quindi ci fermiamo qua nel prossimo episodio faremo sicuramente le battaglie che è un po' che mancano ma questo blitzkrieg contro Peramon poi si completerà con un passaggio di truppe tra questo e lui in maniera tale che lui abbia tutte le truppe elite e lui gli lasciamo le pippe a Bad perché in questa partita Bad per ora fa il gregario e poi puntiamo su su questa capitale e di conseguenza su per Inu quindi voglio prendermi proprio tutta la parte qua ovviamente con Seti bisognerà scambiarsi chess a un certo punto il chess ci scambiamo il chess è interessante vedere lui che è andato a percorrere vie migliori secondo il suo punto di vista quindi vedremo un po' dai ci salutiamo qua ci vediamo sotto nei commenti ragazzi vi ricordo il like l'iscrizione e se volete anche l'abbonamento e come vi ricordo ormai ma siete ben allenati su questa serie i commenti anche quelli sono importanti ci vediamo alla prossima GG a tutti